A Matera nelle giornate del 24 e 25 febbraio il convegno internazionale spazi luoghi materiali e materiali delle comunità organizzato dal Dipartimento delle Culture Europee del Mediterraneo Dicem dell'Università della Basilicata con la partecipazione di docenti dell'Ateneo Lucano, dell'Accademia dei Lincei, di varie università europee e italiane del Comitato Nazionale Giovani Unesco, dell'Amministrazione Penitenziaria e di alcune associazioni locali tema centrale degli incontri affrontato da diverse angolature è quello dello spazio pubblico e privato che l'uomo ha creato, occupato ed utilizzato nel corso dei secoli dal concetto di vicinato tipico delle aggregazioni sociali nei sassi di Matera fino a quelli della Chiesa e della collegialità episcopale Il convegno nasce perché dallo studio sulla toponomastica materana mi sono accorta di aver la necessità di dialogare con colleghi che potessero darmi delle dritte sull'interpretazione corretta a volte anche dell'utilizzo di un toponimo piuttosto che di un altro Il Dipartimento è una realtà interdisciplinare e di conseguenza ho inteso proporre alla comunità tutta un dibattito polifonico che potesse, dialogando, portare all'attenzione di tutti nuovi e vecchi problemi inerenti agli spazi Spazi quindi che si declinano in tutte le loro forme dal territorio ai luoghi grazie all'intervento dell'uomo che poi li rende paesaggio Sarà messo a fuoco il tema del vicinato, il tema dei rapporti, quindi la cellula primaria dei rapporti dell'uomo con sé e con gli altri perché ricordiamo che poi nella vicinanza l'uomo costruisce la propria identità La vicinanza intesa come appunto quella dimensione non solo spaziale ma proprio umana e relazionale in cui si creano e si ricreano identità E' la vita della città dei Sassi e anche del resto della città nel canzoniere di Franco Palumbo che è stata poi occasione per risalire all'indietro su immagini più antiche di Matera da quella di Carlo Levi nel famoso Cristo si è fermato a Eboli risalendo fino a un poeta materano del 600, Tommaso Stigliani, noto alle storie letterarie e ancora più indietro a due Domenicani che ci hanno dato notizia di una Matera non infernale ma paradisiaca che si spiega con un particolare uso di accendere le luci al tramonto in modo da illuminare gli antri oscuri dei Sassi materani nel 400 e nel 500 Ho voluto focalizzare innanzitutto rappresentando quello che l'amico Franco Palumbo che ci guarda di lassù carissimo affettuoso amico di avventure e di rappresentazioni nelle varie scuole e nei centri culturali per raccontare la memoria dei nostri popoli della città dei Sassi ci vede a rappresentare affettuosamente quello che Franco Palumbo ci ha lasciato in questa grandissima raccolta di poesia il tema trattato più che altro va a significare la popolazione de Keravon e de Kessavon perché la stessa popolazione dei Sassi non identificava nelle strade, nei luoghi ma la prima cosa che si chiedeva di dove sei, de Keravon, cioè di quella parte o di questa parte a seconda del caso se, come ha detto il professore, identificandoci la locazione della cattedrale come culmine della civita, guardando da questa parte si faceva riferimento al Sasso Barisano guardando da Keravon dall'altra parte era il Sasso Caveosi quindi è una bellissima espressione di identificazione di luoghi e all'interno di questi luoghi c'è anche da significare quelli che erano i luoghi, le contrade, i toponimi che identificavano le popolazioni a seconda se appartenevano a una popolazione più antica che è sempre riguardato partendo dalla Civita al Sasso Caveoso partendo anche dal quartiere albanese Casal Nuovo e poi da quella che è stata l'evoluzione della città tutto quello che ha riguardato il Sasso Barisano del Casale, le nuove case quindi l'allargamento della città quindi noi oggi andiamo a dare respiro, cioè voce, al vicinato vicinato che era la rappresentazione, il teatro della vita quotidiana di ogni vissuto partendo dalla mattina fino alla sera quindi un grazie alla memoria di Franco Palumbo che in questi versi ha saputo raccontarci quella che era la storia del nostro popolo cioè della città di Sassi La natura del mio intervento è una navigazione fra tanti contributi che saranno al centro di questo convegno di antropologi, di architetti e di linguisti affrontandoli però attraverso le tracce dell'economia della cura e dell'economia del dono è il vicinato di Matera, una comunità sostanzialmente basata sulla famiglia, sulla famiglia allargata è molto diversa da quello che oggi nella sharing economy porta alla coabitazione di comunità elettive, di persone che probabilmente non hanno nessuna relazione familiare ma trovano un motivo o di ordine economico in risposta alla crisi o di ordine ideale di resistenza e di responsabilità sociale e ambientale e decidono di condividere la casa, talvolta anche il lavoro non abbastanza approfondito è l'aspetto che riguarda la divisione interna del lavoro di questi nuovi vicinati che nel caso del vicinato tradizionale, anzi della vicinanza materana era proprio netta fra la cura della donna nei confronti degli anziani e dei bambini rispetto all'uomo del capofamiglia che portava le risorse di sopravvivenza della comunità Ora, questo aspetto molto probabilmente non è stato sufficientemente indagato ma analisi che riguardano le motivazioni della creazione dei vicinati continuano a differenziare il comportamento degli uomini molto più orientato al risparmio energetico, alla razionalità economica di una scelta di coabitazione, rispetto alla donna le cui motivazioni prevalenti sono invece la ricerca di condivisione di relazioni questo in qualche modo è al centro dell'economia femminista sia nel versante dell'economia della cura sviluppata soprattutto in ambito anglosassone che però tende a far riconoscere l'esistenza di un lavoro che non è riconosciuto dal mercato sottopagato e al limite in una visione radicale dell'economia del dono che invece propone addirittura un ritorno ad un matriarcato che non ha niente del senso che comunemente noi attribuiamo a questo termine ma che poggia sull'idea che l'uomo nasce dipendente e se mantiene un rapporto di interdipendenza non si verifica più, si riducono almeno gli squilibri sia sul fronte delle relazioni umane sia su quelle delle relazioni dell'uomo con la natura grazie a tutti